Ok ragazzi l'ho ucciso e ho preso una fiala Però l'ho bevuta dico e ne ho preso una Ok No mi sa che mi sono bevuto la fiala d'ambra però Eh vabbè No non mi sono bevuto la fiala d'ambra Infatti barra dell'ambra Ok allora mi sono bevuto quella giusta Però non ho più vita Ok da qui bisogna per forza abilatoriamente Continuare al massimo dello stat Che ci consente E' un armadio questo? No non è un armadio Peccato Ah ecco Posso superarlo senza doverlo uccidere Qui ci sono già stato prima Ma come cavolo si raggiunge sto covo Qui però è il piano di sopra Oh senti tanto Non ho da perdere Io sto qua la voglio ammazzare Ah vabbè Se sei un civile allora ti ammazzo easy Scusa Uno Ah ok no C'ho la barra delle scorte di ambra piene Vediamo per di qua Non so come raggiungere Pro 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 Ah vediamo di qua Dritto per dritto Ah ma ce l'avevo già raggiunto Ma sto andato più avanti Abbiamo fatto un 3000 robe in più No aspetta ma com'è Ah ok No No ok un corno Ah mi devo arrampicare Ah mi fa male la schiena Ah aspetta Questa corda no No non ci si può aggrappare la corda Come faccio ad andare lì sopra Di qua Ok Proviamo a fare Questo giro qui Vediamo se Come dico io E non vedo il tizio però Proviamo a schienare lo stesso No non mi piace sto bug grafico che vedo Questa Non mi serve No non volevo nascondermi Sommone Ok 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 prendere niente da fare ok allora possiamo andare eh ma neanche da qui si può fare qualcosa, non è vero oh senti da qualche parte mi dovrò pure arrampicare si siamo usciti ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta il microfono è acceso e funziona spero di sì l'abbiamo fatta duro sto gioco e pensare che ho messo solo normale chiede a che cosa succede se mettevo difficoltà goblin oppure sono io scarsa quello stat che è proprio ma è molto più probabile, probabile testo croce che sarebbe da x e quindi ma se io scendo di qui mi faccio un male voglia ho sentito tipo però se adesso mi riparte con la stessa vita cioè io non so dove andare a parte che cadere di sotto però cadendo di sotto mi trovo con tutta la vita secondo me mi ha preso un brivido ed è l'estate vabbè e pure lo sbaglio brividi strannuti sbadigli tutto d'estate è normale e ma come aspetta l'anatic 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 spaz scatto di un uo perchè perchè vabbè boh comunque abbiamo capito beh immaginiamo di usare di dover usare quello all'inizio ho detto ma se usiamo il clone e poi ho detto ma aspetta e se c'è qualcosa di nascosto sono un genio non so perchè sbadiglio ragazzi mi scuso ma vabbè non lo so sono svegliissimo e sbadiglio scialla comunque oggi per la bellezza di diamanti dell'horror credo che registro pure autodust visto che non lo faccio per tanto tempo boh dai gli sembra la stessa cosa l'anatic l'anatic stucco ah questo è impossibile ci deve essere un modo ci deve essere un modo ah è che doveva Ma non ho capito se si parla a noi o se parla a se stesso, c'è da due persone di vita. Evidente che è stato un po' riscatti. Ma sembra lui. Mi cuore sembra come un pobo blu. Ci facciamo a fare mai avanti. Cosa faccia qui? E' qui per te dire che ho trovato un campo escitotto, come tu mi chiascati. A te chiesto? Sì, ovvero ti chiesto. Cosa, questo colpito... Deve essere perché non mi ricordo che sia mai stata la mia azzurro. Bene. Bene. Siamo dopo la scuola, allora. Voi dire il modo? Alla che devi fare è seguire le marki che ho fatto qui e qui. Voi vedere. Questo è il mio sistema personal. Dopo che vedete la marka, sai che uno dei miei posti di scuola è vicino. Puoi andare dentro. C'è uno vicino, con, come succede, una lista di altri posti di scuola. Voi vedere. Certo. Certo. Mi sono scoperto. Certo. 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 Tu dovrai prendere il suo prezzi di scuola in un altro posto. Oh, sì. Una cosa che non ho detto. Il posto è in... ...seuers. Ma sai come è. C'è più che è che è più 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 che è. E credo che mi sembrava a gustarti. È già più che è più che. È più che è più che il rischio di scuola. E, comunque, il controllo che è più che è più che è più che sia. È sicuro, andate qui, prendete il barro e abilate la entrare nel sezione. Io non vedo a te, non vedo. A un'allora... Che sembra che la rosa ha portato un flasso in casa. morseggiare allora amico mio ti vi tanto bene lo sai no? ma si ma fra noi due guarda un legame ah si scusa stavo bevendo ok basta allora andiamo io potremmo 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 con la mia ammolazione escippi ah Oh, guarda, Sticks. Dopo quello che ho fatto per te, tu dovresti mantenere la tua lingua per i tuoi occhi. Cosa? Cosa hai fatto per me? Mi ho dato il progetto che ci saranno ai relics dell'atrium. Mi ha costato questo f***o ambre scar sull'arrivo. Sì, non dovrebbe andare troppo lungo. L'atrium dell'atrium? Hai scopo me, Sticks? Sì, i relics, i ultimi obiettivi dei great fallen lords. Ma perché non si ricorda niente? Oh, me ne frega delle reliquie. Devo capire perché non si ricorda niente. Cioè, gli sta succedendo qualcosa o proprio tutti i goblin sono così? Non si ricorda niente. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit! Ok, per di là non si va. Questo si è capito. Ok, in realtà noi siamo ancora la delle parole che ci stai interrogando. Questi sono il raccoglio di come si sono arrivati i figli. Chissà cosa succederà dopo. O magari il gioco è solo tutto il racconto. E alla fine è tipo lui che viene arrestato, no? Così a caso. No, in realtà credo che sia sempre un'unica missione di tutto questo. Infatti è sempre il ricordo, ricordo, ricordo. Ehm, Styx, sei un po' sul nulla. Ah, sopra non ci andiamo. Però guardare qui... Grazie. 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 Grazie.